3 anni fa l'integrazione multiutility nel gruppo Dolomiti Energia. Le attese di allora, oggi, si sono avverate? Direi di sì, le attese erano quelle di riuscire a sviluppare un mercato che il gruppo Dolomiti Energia non aveva, che era il mercato fuori dalla provincia di Trento e su questo abbiamo trovato in multiutility competenze, passione e capacità che sicuramente ci fanno far bene. Direi proprio di sì, nel momento in cui, all'epoca quando si era visto in Dolomiti un gruppo con un importante progetto e con la voglia di svilupparsi sul territorio nazionale e di valorizzare al meglio questa complementarietà di esperienze, ma che comunque ha un importante trade union e un fattore comuno che è la passione e la competenza di questo mercato, mettendoli insieme siamo riusciti fino ad oggi ad arrivare ad un punto che ci proietta anche da oggi in avanti poi verso un importante futuro. Cosa si aspetta oggi il gruppo Dolomiti da multiutility? Beh, quello di crescere ancora, questo è un punto di partenza, noi dobbiamo sicuramente crescere, crescere soprattutto in quella che è la nicchia di mercato in cui vogliamo entrare, che è quella delle imprese, delle imprese sensibili all'attenzione all'ambiente. La possibilità di continuare a crescere, di farlo su un mercato sempre più competitivo, mettendo in campo le migliori esperienze e competenze, potendo avvalersi sempre di più di quello che è il nome di un importante capogruppo che dà garanzia e sicurezza su un mercato dove ad oggi l'affidabilità del fornitore verso il cliente è uno degli asset importanti. Multiutility tra cinque anni? Beh, non abbiamo ancora la pretesa di immaginare il futuro a così lungo termine in un mercato che purtroppo cambia e cambia molto rapidamente. Quello che vorremmo essere fra cinque anni è quello che siamo oggi, un punto di riferimento importante per il mercato, un leader nel mercato dell'energia rinnovabile, ma soprattutto un partner affidabile per tutti quelli che hanno a che fare con noi, dai clienti ai fornitori a chi ci lavora. Di certo arrivare a festeggiare il quindicesimo compleanno del 100% energia pulita che ormai è un marchio a livello di gruppo che ne contraddistingue quello che è il DNA e di sicuro la possibilità di poter raccogliere quelli che sono i frutti del lavoro quotidiano che da oggi in avanti andremo a sviluppare per i prossimi anni. Grazie a tutti.